C'è poco da dire, siamo tra le squadre più in forma del campionato, siamo la squadra più forte del campionato in questo momento dopo l'Atalanta Siamo una squadra che non si arrende mai, finalmente riusciamo a segnare, finalmente giochiamo bene, finalmente riusciamo a rimontare anche da quando partiamo in svantaggio C'è poco da dire, in questa partita abbiamo giocato davvero benissimo, Ibra non mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto Biglia Mi sono piaciuti ovviamente due giocatori che in questo momento sono i migliori del Milan, sono la nostra colonna portante Sono due giocatori che uno ho sempre amato, l'altro ho sempre odiato, ma in questo momento sono entrambi i due migliori che abbiamo Uno è il solito, Akan Cialanoglu, non ci sono più parole per descriverlo, è il perno, è l'anima del Milan Se gira lui, gira tutti, oggi ha fatto due assist, ha fatto gol, sapete Cialanoglu, non c'è più niente da dire, lo dico in tutti i video Ciala, mi piace un botto, penso che ormai piaccia a tanti di voi, piaccia a tutti, Cialanoglu è il nostro numero 10 Ce lo teniamo e sono contento che sia lui, ma soprattutto mi è piaciuto che sì, e non mi è piaciuto solo oggi Mi è piaciuto da tante partite a questa parte che sì, l'ho sempre criticato, ma c'è poco da criticare ultimamente Che sì, è un giocatore incredibile per quello che sta dando in questo momento Spero che possa essere sempre così, o che se davvero fosse questo momento di gloria, venderlo Però, secondo me, in questo modulo 4-2-3-1, dentro di che si sta giocando da dio Cioè, non si può dire niente, non so se sia stato il coronavirus, se sia stato l'esodo in costo da voli Non so che cosa sia accaduto a questo giocatore Da quando è tornato, è il che sì, che tutti speravamo di vedere Che sì, sta giocando, fa assist, fa gol, ha fatto un gol della madonna I piedi che ha sempre criticato io perché sembravano quadrati, adesso sembrano effettivamente allotondati Un giocatore incredibile, Hernandez, io ho perso le parole Eh, ragazzi, non so cosa dire, sinceramente questo Mina mi sta piacendo un sacco È difficile essere lucidi in momenti come questo Lo scudetto l'anno prossimo è utopia, una stronzata, è tutto Però le condizioni di quest'anno e le condizioni dell'anno prossimo saranno quelle Ci saranno i cinque cambi, quindi non dico che siamo da scudetto assolutamente Però io dico che a queste condizioni, lottare per la Champions l'anno prossimo Bisogna farlo e non accetto questa volta mille stravolgimenti So che arriverà l'angli che qualcosa cambierà, cazzo, però una base di partenza c'è Non facciamo come l'anno scorso con Gattuso, che abbiamo dovuto cambiare tutto per poi tornare lì Sappiamo che c'è un auglurone bene al trequartista Che si rende bene da mediano Che Hernandez è un fenomeno, sei in grado di essere libero Facciamo di più, cerchiamo di prendere una punta in grado di sfruttare tutte le occasioni che creiamo Perché anche oggi ne abbiamo creati 20 prima di fare gol E dai, 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 cazzo, ciao